L'epoca avevo cinque anni. Tutto è successo in un ospedale. Ci avevano promesso che non avremmo sofferto, che non avremmo avuto male. L'uomo si è avvicinato a me. Infatti stavamo in una lunga coda davanti al tavolo operatorio. Anche se c'era una tenda, si sentivano gli urli della ragazza che ci precedeva e quindi piangevamo tutte. Eravamo molte, non c'eravamo solo, mia sorella e Dio. Arriva il mio turno, urlo, non ho più la forza. Una persona mi tiene la gamba sinistra, una la gamba destra, una persona per il braccio. Mi di meno e tutto è tutto, ma malgrado tutto ciò non ho la forza per difendermi. Urlo, ma non serve a nulla. Quindi è stato molto difficile. È stata un'esperienza molto violenta della mia infanzia. Fino ad oggi rimasta come cicatrice nella mia memoria. Oggi a 22 anni soffro ancora di questo mentalmente, ma ho accettato il fatto di aver subito l'uscizione perché non posso farci nulla. Ma so che posso lottare contro questa situazione. Una cicatrice nella memoria è la coscienza di dover lottare contro. Questa ragazza che è stata mutilata testimonia la sua storia di dolore. Una storia di dolore che accomunea milioni di donne, soprattutto nell'Africa. Su questo argomento delicato e doloroso vogliamo parlarne in una serata organizzata dalla comunità africana del Ticino. Abbiamo con noi la presidentessa, la signora Mumina Contessi. Io sono generazione che ha vissuto questo intervento, chiamo così, per non essere drammatica. ma il tempo che vivevo ancora in Somalia c'è stato un programma di sensibilizzare le donne per non fare ai ragazzi questo. Io sto parlando dell'anni 70. Puoi trovare ragazzi somali che sono nati in Somalia, vissuti in Somalia, che oggi avranno una trentina d'anni, 30-35, che si sono salvati perché il nostro governo ha iniziato già allora a parlarne con le donne e farli capire che non è giusto quello che si fa, che non è religioso ma è solo una usanza e va lasciato perdere. Come avviene nelle comunità questo passaggio e questa tradizione che si tramanda? Questa tradizione va portata avanti delle donne normalmente, ma tanti uomini anche sono d'accordo che si porta avanti questo perché da una parte, diciamo, della società crede ancora a questa tradizione, la trovano che sia una cosa utile, per quello non sentono di abbandonare, ma c'è dall'altra parte una parte della società che accetta una ragazza che non è stata mutilata. C'è sempre questo conflitto da una parte e dall'altra, ma se dove vive questa ragazza da parte della sua famiglia, la comunità, perché lì contano anche i vicini di casa, uno può non essere i tuoi familiari, è solo vicino di casa, ma fa parte delle decisioni familiari tante volte, soprattutto quando si vive una piccola città, allora lì se la comunità dove vive questa ragazza è una comunità aperta che ha capito che questo fa solo male, è fortunata, così li lasciano in pace, ma se no, che c'è la nonna o la mamma o i zii che dicono no, noi abbiamo sempre fatto questo lavoro e va fatta anche questa ragazza, lì c'è poco da salvarsi. Alla seriata che avete organizzato avete invitato un attivista somala, la signora Marian Ismail, che Caritas Insieme ha intervistato alcuni anni fa proprio su questo argomento. Non credo alle campagne, l'Occidente può fare tutte le campagne che vuole, io sono contenta se qualcuno ci aiuta, ma che ci dia gli strumenti, non che si metta al nostro posto per dire pat, pat, adesso ti insegno io, perché comunque già lo so di per me, non c'è nulla da, sono molto più efficace io nella mia lingua a spiegare queste cose piuttosto che una volontariosissima donna occidentale che mi viene a dire, che ne so, questa cosa non sa da fare, non si deve fare, perché lo dico io, questo è il messaggio ambiguo. Allora, per una volta chiediamo di essere supportate, ma che qualcuno ci stia alle spalle, non ci stia davanti, qualcuno ci stia a fianco, non davanti. Abbiamo bisogno di avere gli strumenti per intervenire, per sensibilizzare, per cambiare radicalmente, profondamente, far capire a queste persone che si può, si può e ci si riesce. Dal vostro osservatorio, sempre qui come comunità africana del Ticino, in che modo vi sentite coinvolte nella lotta? Noi ci sentiamo coinvolti come mamme, non solo come comunità africana, perché in comunità africana ci sono anche i uomini, ma soprattutto le donne delle comunità africane si sentono coinvolti perché ci sono stati, parlando solamente la nostra comunità somala che vive in Ticino, c'è stato un caso dove è finito sui giornali, che sono stati processati i genitori perché l'hanno fatto alla figlia, portando a qualche altro paese, che questa bambina è nata qua, è vissuta qua, allora cerchiamo di intervenire prima che succeda questo, parlando con le mamme, parlando con i ragazzi giovani, per vedere se qualcuno veramente ci crede che si può a non fare questo lavoro, perché non serve niente, secondo me porta solo dolore. La signora Ismail diceva dateci gli strumenti, quali sono gli strumenti che secondo te possiamo dare a queste donne in prima linea? Uno può essere dare spazio dove possono incontrarci le donne, dare la possibilità di organizzarsi, aiutando perché no anche economicamente per organizzare questi incontri tra le donne. Poi ci sono tante donne che non sanno cosa è che stanno facendo, allora di dare a queste donne la possibilità di sentire qualcuno che è specialista, che spiega anche a un medico, che le spiega i danni che può avere a lungo andare questo intervento, che vogliono fare i propri figli o l'hanno già fatto. Molti papà oggi, quando vengono a sapere in che cosa consiste la mutilazione, che tipo di dolore porta, dicono no a mia figlia questa cosa non voglio che venga fatta. È una cosa che hanno gestito le donne soprattutto, pur essendo probabilmente nata per un controllo dell'uomo. Sì, sì, è gestito sempre la donna, l'intervento fa la donna e la mamma che decide quando e come e chi lo fa, ma è semplice adesso, noi viviamo un contesto dove questo è condannabile. Penso che un uomo che vive in Europa, quando le dicono se lei è d'accordo che sua moglie fa suo figlio questo, anche lei va in galera per esempio. Allora lì dice no, non lo faccio, ma voglio sentire un signore somalo che è in Somalia, se gli dicano lei non può fare suo figlio questo lavoro, la risposta quale sarebbe? La lotta deve essere combattuta sul posto. Sul posto soprattutto. E tu come vedi? Ci sono delle speranze, delle aperture? Certo, certo, è bello già che si parla in pubblico come sto facendo io adesso, come ha fatto la signora Esmail, perché è una cosa che non si è mai parlato. Penso che tanti, tantissime donne che anche vivono qua in Europa adesso, è la prima volta che sentono che questo è una cosa che fa male per loro, hanno vissuto normale, hanno sempre pensato che è normale e che tutte le donne forse le fanno, ma arrivando in Europa, sentendo parlare, capiscono lì che l'hanno fatto qualcosa di torto, è stato fatto torto, ma prima no, le pensavano che è una cosa normale. Non lo vedevano, penso, tanti ancora adesso, forse qualcuno ti guarda quando parli di questo argomento, cosa c'è da dire. È talmente radicato nella cultura. Sì, nella traduzione tutti pensano che è normale, no? Non è la prima volta che io anche personalmente parlo, penso che ho iniziato a parlare nel 94. Ma io ancora ho sempre detto e ripetisco ancora che il lavoro vero va fatto sul posto. Noi possiamo lottare, non dobbiamo smettere comunque, bisogna continuare a lottare anche qui per salvaguardare le nostre ragazze che sono nati qua, che vivono qua. Ma ci sono quelle che soffrono ancora a casa. Spero che un giorno riusciamo anche a arrivare là. Quindi una lotta, ognuna con le proprie forze. Questo è un messaggio che in occasione della giornata delle donne, le donne della comunità africana del Ticino lancia. Caritas Ticino partecipa a questo incontro. Mettiamo assieme le nostre forze, piccole forze, per costruire un futuro migliore per tante donne che ancora soffrono. Io ti ringrazio per essere stata Caritas insieme questa sera. Ringrazio voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci a sabato prossimo.